L'impegno civile a conservare la memoria alla prefettura di Trieste. Questa mattina il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha consegnato le medaglie d'onore a 5 familiari di vittime della Shoah. Poi sarà presente all'inaugurazione di due mostre dedicate alla memoria e chiuderà la giornata con la visita al campo di concentramento della riserva di San Sabba. Ma sentiamo cosa ha detto il ministro Piantedosi. E' una città simbolo della memoria, questo è il luogo dove fu annunziato l'orrore delle leggi razziali, dove fu fatta la prima deportazione di ebrei italiani ad Auschwitz. E quindi è molto molto importante. Io sono molto contento di partecipare a questo momento di ricordo che deve essere un momento di rilancio dei valori che sono sottesi a questo ricordo.